Il tema è cosa abbiamo visto, cosa non avevamo mai visto. Non c'è memoria di quanto abbiamo raccontato ed è accaduto con quelli che sono 13 arresti. Poi l'assalto al policlinico, la devastazione del primo piano della CGL, sono stati feriti degli infermieri. Scopriamo che a una manifestazione principalmente contro il Green Pass e l'obbligo ci sono state delle infiltrazioni. E per questo le domando, c'è un problema di sicurezza in questo Paese? Sono situazioni difficili, nel senso che è successo anche in passato che infiltrazioni di questo tipo si siano verificate. Però non con la violenza e con le modalità a cui abbiamo assistito. Lei ricordava il discorso della CGL, addirittura del pronto soccorso dell'Umberto I, ma anche la vemenza con la quale si sono portati verso i luoghi delle istituzioni. Palazzo Chigi, Montecitorio. Io non ricordo, ieri voi avete documentato con 6-7 ore di diretta tutto ciò che sta avvenendo. E devo dire che io ho seguito quelle vicende con apprezzione perché le forze dell'ordine, devo dire, che hanno mostrato una notevole capacità di controllo di se stessi di fronte a manifestanti, alcuni pacifici, perché se la manifestazione fosse stata pacifica non sarebbe successo nulla, ma c'è stato tutto uno sviluppo strano, essere un sit-in, poi si è trasformato in manifestazione, ci sono polemiche politiche. Certo, ci dobbiamo domandare anche quale tipo di colpa abbia la politica in tutto quello che abbiamo visto ieri, però se restiamo sulla politica, tanta politica italiana in questo momento sta chiedendo lo sceglimento di Forza Nuova. Sì, mi sembra che poi il coro sia unanime nella condanna della violenza a cui abbiamo assistito, con modalità differenti ovviamente. Un po' di responsabilità potrebbe esserci. C'è sempre nelle vicende politiche contrapposizione, questa volta però poi le dichiarazioni di questa mattina, le manifestazioni di solidarietà in occasione del discorso di Landini, mi sembra che abbiano avuto una convergenza univoca verso un'assoluta condanna di ciò che è successo. Certo bisogna stare attenti, soprattutto considerare con attenzione che queste scelte, mi riferisco al Green Pass, sono un po' forzate e nessuno è contento di farle, però hanno dato dei risultati, questo è innegabile, sia sotto il profilo della salute, sia per quanto riguarda l'economia, perché poi bisogna guardare anche... Ecco, ma a proposito di economia, si è sempre speso moltissimo per le piccole e medie imprese pubblicamente. Allora, io mi rifaccio alle parole a un'intervista recente su Repubblica da parte del governatore del Veneto, Zaia, che ha parlato di quello che potrebbe succedere dal 15 di ottobre, potrebbe essere come una bomba, dice non ci sono i numeri, in questo caso ci sono 50.000 tamponi giornalieri in Veneto, ma per rispettare quelli che saranno gli obblighi da parte delle imprese, cioè fare i tamponi per tutti sarà impossibile dal 15 di ottobre, in questo caso, stiamo parlando di Regione Veneto, questo sta spaventando molto gli imprenditori. Infatti le regioni hanno chiesto di aumentare la durata a 72 da 48 ore, proprio per questo motivo, perché c'è timore che ci sia un'insufficienza di tamponi e che si creino delle difficoltà, soprattutto per le piccole e medie imprese. Vedremo, il governo in questi giorni dovrà anche perfezionare le linee guida, soprattutto per il settore privato, ci sono anche altri problemi importanti per quanto riguarda i controlli, anche cose abbastanza banali, ad esempio il controllo che dovrà effettuare chi ha in casa una colf o un abbatante, come verrà effettuato, dovrà sicuramente effettuarlo, quindi le linee guida che aspettiamo, a chiarimento ulteriore, credo che siano importanti. La cosa fondamentale è che l'attività economica, visto che l'80% è stato superato, l'80% dei vaccinati, l'attività economica possa proseguire e intensificarsi anche con l'allentamento delle restrizioni, a cui abbiamo assistito con il recente provvedimento. Da 15 ottobre noi avremo un ampliamento della possibilità di svolgimento di attività culturali, abbiamo visto teatri. Ma già da domani, infatti dicevo, qualcuno patisce un po' il lunedì quando è domenica, però in realtà domani è un gran bel lunedì, visto che si torna al 100% a teatro, al cinema. Assolutamente, anche gli Stati. Piano piano ci stiamo riavviando verso una seminormalità, ma bisogna sempre stare attenti perché aumenta il numero dei vaccinati. Noi siamo secondi tra i paesi più importanti in Europa, solo la Spagna, per la percentuale, ma abbiamo 3 milioni di over 50 ancora non vaccinati. Quindi la pandemia è sempre in agguato, lo testimonia anche il dato della Germania che nelle ultime 24 ore è salito oltre le 7 mila unità. Quindi l'autunno si avvicina, prudenza, attenzione, green pass e speriamo che ancora più gente si convinca. Il green pass sarà obbligatorio, quindi però tra le linee guida nuove di didattica a distanza, anche di questo si parla, evitare la quarantena per un solo caso positivo in classe. Sì, credo che questo sia importante, ma si è parlato anche, lo vedremo nei prossimi giorni, di una differente gradualità nell'applicazione della quarantena a seconda della fascia di età e quindi con una differenziazione nell'ambito di scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria di primo grado e un scatto della quarantena in modo differente che naturalmente sarà più urgente laddove l'età degli studenti è minore, sia per la loro età minore e poi perché non sono vaccinati ancora, come ben sappiamo, e vedremo poi cosa si deciderà in seguito su questi temi. Ora, senza essere troppo ottimisti, rimaniamo sul low profile, però siamo ad ottobre, in qualche modo si è tornato tra i banchi ormai quasi un mese, pensiamo positivo, no? Sì, lei ha colto un aspetto fondamentale, temiamo tutto, tutti che la scuola con la riapertura, soprattutto per il connesso problema dei trasporti, potesse far riscaturire nuove preoccupazioni. In realtà sembra abbastanza sotto controllo la situazione, ma questo dipende proprio dalla buona strada che abbiamo percorso con la campagna di vaccinazione, per cui c'è stato l'obbligo per docenti e personale scolastico, per gli studenti no, ma alcuni studenti, voglio ricordare che si sono vaccinati più i ventenni che i trentenni, per esempio, quindi c'è stata anche una presa di coscienza dei giovani fondamentale, naturalmente il problema però riguardava le scuole primarie e l'infanzia, dove i bambini non erano vaccinati. Per il momento non cantiamo vittoria, ma stiamo andando molto bene, possiamo essere ottimisti, almeno per quello che abbiamo visto fino ad oggi. Grazie al Rettore Unicosano e a Fabio Fortuna, grazie per essere stato con noi a SkyTG24, buon lavoro. Grazie a tutti.